e ciao a tutti ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovo video oggi ragazzi sono qua su scegliere il colore più lungo e devo vincere perchè devo essere prima come quella quindi voi mi aiuterete e mi scriverete nei commenti quale colore scegliere allora arancione io sapevo che l'arancione era più alto se blocchi ok e una già stata eliminata beh io direi insomma ti dico sono già in alto però poi devo fare di meglio ho sbagliato il colore wow adoro il colore più lungo sta vincendo questo qua beh ma io cercherò di raggiungerlo perchè poi questa qua sottopetterà poi l'altra rimarrà ma soltanto io io ovviamente lo copierò quello che sceglierò lui lo sceglierò anche io così almeno cerco di arrivare ugualmente a lui in modo tale da spiaccicarlo al muro e vincere io non mollerò mai preparazione dei colori preparazione dei colori siamo rimasti siamo rimasti soltanto io e lui ok oddio 22 blocchi io nemmeno ce li avevo tutti questi 22 questi 22 blocchi dai 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 scelgo mi sa di farcela oddio no ragazzi io mi devo aiutare per forza 10 blocchi per forza come ho sprecato 10 robux per niente no no questa volta mi aiuterò quando vedrò che sto per prendere prenderò 10 blocchi in più oppure potrò far esplodere i blocchi yeah ragazzi quando saremo più in alto poi io li farò esplodere no aggiungo più 10 aggiungo più 10 blocchi ok e già siamo in vantaggio a lui oh poverino si è squalificato da solo perfetto i want to win si si tu vincerai wow si vincerai ora voglio vedere come crollerai e devo far esplodere i blocchi se no non vinco allora ok 14 blocchi ora appena stiamo arrivando la sopra e io sto per perdere farò più farò esplodere dei blocchi ok mi ha superato solo di un blocco ce la posso fare ragazzi vai vi chiedate di me perfetto ce la farò no mamma no ragazzi non ci posso credere oddio ragazzi ok 8 7 6 5 4 3 2 faccio più 10 blocchi ragazzi sì sì no 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 ragazzi io ci godo se loro perdono ora sì ma scherzo ragazzi non è che ci godo però potevo anche vincere insomma sono terza uffa di nuovo 10 robux per niente ragazzi spregati per niente ho gli ultimi 10 robux e poi non ho più robux io direi questa volta di far esplodere a qualcuno allora chi era prima allora prima era quella news quindi direi decisamente di fargli esplodere i blocchi ok ahhh ora sì invece ora mi piace ora sì che mi piace voglio vedere se vincere questa volta ninja si sono più un vantaggio decisamente vinco io sì vinco io allora colore più lungo dark stone che c'è scritto grey ok dark stone grey ah bene ninja ninja si si continua a dire i want win si vincerai e come infatti sto per perdere ora ora 18 blocchi perde e mi sa che pure loro tre e io vincerò vincerò guardate voglio vedere se soffrire mh ole sì loro due io vinco yeah finalmente finalmente vinco finalmente 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 vincerò voglio vederlo voglio vedere ale wii ho vinto ragazzi ho vinto 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 yeah dritto e dritto con 12 minuti quindi ciao 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 ciao